Musica Ballottaggio anche a Roseto, comuni tra i centri maggiori in Abruzzo chiamati all'appuntamento elettorale. I cittadini del Comune Costiero dovranno scegliere i prossimi 17-18 ottobre tra il candidato civico Mario Nugnes e William Di Marco, candidato per il centrodestra. L'affluenza a primo turno è stata del 63,61%, più bassa rispetto alle ultime amministrative, dove il dato si attestò al 69,18%. Ricordiamo che i seggi sono 24, di quali 11 è Roseto Capoluogo e 13 nelle frazioni. Questo a dimostrare la vastità del territorio. Su 26.139 abitanti, gli aventi diritto al voto sono 22.747. Ma entriamo subito nello specifico e andiamo ad ascoltare le parole dei due sfidanti alla carica di primo cittadino del Comune di Roseto degli Abruzzi. Diamo il benvenuto a Mario Nugnes, il candidato più votato al primo turno. Vorrei iniziare proprio ad analizzare questo dato. Oltre 4.300 cittadini rosetani hanno deciso di votare lei? Sì, è stato un risultato eccezionale, un'emozione unica quella di apprendere da uno spoglio progressivo che tanti cittadini, tante cittadine, tanti appunto elettori liberi e desiderosi di un cambiamento avessero dato fiducia ad un progetto civico ma un progetto stabile che affonda le radici nel tempo, affonda le radici in una preparazione competente, affonda le radici in una creazione di una squadra che intorno a me ha creato appunto un'aspettativa sulla città, quella di una svolta e su questo penso che i cittadini hanno voluto dare un credito importante, quindi 1200 voti di scarto rispetto alla seconda coalizione, da quello che ho letto dai numeri 560 voti in più del sindaco rispetto alle liste, è un attestato di fiducia che più che inorgoglirmi mi riempie anche di responsabilità, che oggi mi fa capire come ci sia bisogno di una città che debba essere governata da subito in maniera decisa. Quello che lei più volte nelle interviste che ha fatto il giorno delle elezioni ha voluto ribadire più volte è che il suo lavoro è iniziato oltre due anni fa, quindi anche partire dalla costruzione di un progetto concreto. Sì, io nella redazione dei progetti, soprattutto nel campo del sociale in cui lavoro, ho sempre imparato che bisogna partire da un'analisi dei bisogni per poi fissarsi degli obiettivi generali, poi specifici, poi attività e poi indicatori per verificarli. Ho cercato di applicare questo metodo al mondo politico che invece a volte è fatto di tempi incerti, di progetti a scatole cinesi piuttosto che a contenitori che vanno ad inscatolarsi rispetto ad elezioni successive e quindi 30 mesi fa con un gruppo di persone al mio fianco abbiamo scelto di avere un obiettivo, quello delle elezioni amministrative del 2021 appunto, il hashtag 2021 lo abbiamo, se qualcuno va sui miei social lo troverà già presente in maniera prospettica e prodromica qualche anno fa e da lì siamo partiti su tre parole chiave, intanto di intercettare i candidati perché poi il sindaco ha bisogno di candidati che lo sostengono nella fase della campagna elettorale ma che poi lo sosterranno durante l'amministrazione, cioè un sindaco isolato, un sindaco ostaggio di una parte politica è un sindaco che non può amministrare una città e ho chiesto tre caratteristiche ai miei candidati, di essere persone libere, di essere persone competenti, di mettere a servizio la loro competenza e di essere persone generose, cioè che fossero capaci di dare qualcosa in più rispetto a quello che normalmente si riceve e in politica oggi è molto difficile perché effettivamente tante sono le incombenze, in questi giorni per esempio il maltempo dimostra come un sindaco avrebbe avuto tante difficoltà e ovviamente una grande responsabilità rispetto ai disagi che i cittadini hanno, cioè non si possono dormire sonni tranquilli. Questo progetto, questi mesi, tre anni di lavoro hanno portato alla creazione di una squadra forte, competente, libera, generosa ma anche desiderosa di cambiamento, hanno portato a capire che il tempo è un fattore decisivo, quindi abbiamo chiesto e chiederemo a chi si impegnerà nella mia amministrazione di dedicare tanto tempo a far quello che appunto i cittadini ci hanno chiesto, soprattutto la competenza, la competenza significa mettere a servizio quello che uno sa, quello che il gruppo mette a servizio di quello che poi è eletto, quindi ci saranno delle liste che avranno eletto una o due persone o tre, insomma più numerose, ma non sarà il lavoro dei tre eletti o dell'assessore, ma sarà il lavoro della squadra con il quale scorsa due giorni fa siamo stati a fare una riunione con i nostri candidati, in genere si perdono dei pezzi, qualcuno forse l'abbiamo perso anche noi, ma è fisiologico, ma posso dire che oltre 85 persone che si siedono intorno ad un ampio tavolo e ribadiscono la fiducia sapendo all'ottantacinquesimo che non entrerà in consiglio, ma che entrerà nella squadra di governo, perché la squadra sarà molto più ampia. Qual è la sua idea di Roseto? Quale strategia deve iniziare a percorrere questa cittadina costiera che comunque dal punto di vista turistico rappresenta veramente tanto in provincia di Teramo? Io credo che Roseto debba riappropriarsi di alcuni aspetti importanti, intanto Roseto è una città che a detta di tutti ha sviluppato una forte socialità negli anni, cioè una città che era diventata un fiore all'occhiello per il sociale, allora io il sociale lo voglio estrapolare da quello che è solo il terzo settore, il sociale è quella realtà in cui le persone relazionandosi riescono a risolvere dei problemi, la partecipazione quindi calata dal sociale a tutti gli ambiti diventerà il punto di forza della mia amministrazione, cioè noi ritorneremo con i consigli di quartiere a far incontrare le persone, noi ritorneremo con i tavoli tematici che noi istituzionalizzeremo, quindi le consulte del turismo, dello sport, del terzo settore, del volontariato, della cultura, delle mamme e dei papà, sono tutte consulte che noi abbiamo scritto nel nostro programma certificato di 58 pagine, saranno tutti strumenti a costo zero, ma a grande impegno di tempo, come dicevo prima, che permetteranno a chi vorrà, e credo che sono molte le persone, di impegnarsi, lo abbiamo visto, se sono stati 328 i candidati in questa elezione, evidentemente al netto dei parenti, amici, ma deve esserci un forte bisogno di impegno, altrimenti le persone non avrebbero firmato una candidatura, allora noi vogliamo ripartire da quel dato, c'è voglia di partecipare da questa partecipazione e poi dobbiamo sviluppare degli asset, cioè degli impegni seri, il primo su quale noi abbiamo lavorato ormai da anni è quello del turismo, perché il turismo deve diventare un affare di tutti e non solo di chi oggi magari giustamente lavora in quel comparto, il turismo significa attrattività della città di Roseto, significa posti di lavoro, significa decoro della città, investimento dell'imposta di soggiorno già cospicua, ma che noi punteremo a far crescere aumentando gli ingressi, perché aumentare gli ingressi significa destagionalizzare, non ingolfare la stagione estiva, che comunque per fare aumentare gli ingressi dovremmo puntare nel medio termine anche ad avere maggiori strutture ricettive, su quello è ovvio un discorso che non si può risolvere in un anno, ma allargare il periodo turistico, per esempio facendo uscire un programma degli eventi già all'inizio dell'anno in corso, in modo che degli eventi estivi e facendo uscire l'elenco degli eventi invernali entro la fine dell'estate, cioè destagionalizzare significa che il turismo deve essere 12 mesi l'anno con eventi pianificati, nel programma abbiamo scritto 14 grandi eventi, ma anche lavorando su quelle cifre che possono essere investite in una manutenzione che è legata al turismo, ma anche legata poi al cittadino, quindi il cittadino che non deve più percepire il turista come qualcuno che viene e disturba la collettività o che va ad ingolfare le proprie vie durante il periodo, turismo legato a manutenzione che deve essere pianificata e allora anche qui servizi, i primi servizi che dovremmo risolvere sono quelli dei parcheggi, dialogo con i privati che hanno appunto in questi anni deciso addirittura di chiudere dei parcheggi, ma al tempo stesso proporre delle soluzioni alternative, delocalizzare dei grandi parcheggi al momento solamente agli estremi della città, aumentare la mobilità sostenibile nei periodi dell'anno in cui questa è possibile, con bike sharing organizzato, con dei bandi precisi, con delle azioni anche di sensibilizzazione, ma al tempo stesso con dei bus navetta, questo l'abbiamo detto in campagna elettorale, sia sulla città ma anche da e per le frazioni. Bisogna poi anche l'interagire con la tua, il servizio del trasporto regionale, per migliorare il servizio di collegamento delle frazioni che abbiamo percepito sono tra i soggetti più abbandonati in questa ultima consigliatura, cioè nel giro che abbiamo fatto nelle frazioni abbiamo percepito come si sono sentiti i cittadini di queste parti della nostra città, cittadini di serie B, allora noi abbiamo voluto scrivere, le frazioni sono parti del tutto. Poi ovviamente una questione che riguarda Roseto è che il territorio è molto vasto, quindi poi ci sono le frazioni che sono lontane dal centro città, collegarle al meglio, ma questo in quanto tempo si può fare un'organizzazione del genere? Allora sicuramente ci sono aspetti che si possono fare nell'immediato, alcuni devono essere programmatici, ne prendo uno per esempio nell'immediato, parlavo poco fa del bus navetta nel periodo estivo, avendo i fondi delle imposte di soggiorno e sicuramente chiedendo anche al cittadino di compartecipare, quindi programmandola credo che sia qualcosa che per la prossima stagione sia già fatta e noi l'abbiamo messa nel programma in una forte volontà di tutta la mia coalizione. Altro aspetto che si può fare nelle frazioni è investire parte di quelle che sono i fondi, anche in questo caso turistici, per degli eventi, cioè non far sì che si congestioni solo lo seto capoluogo, lo seto centro, ma riuscire a farlo e questo sotto qualche polemica della parte dei nostri avversari politici lo abbiamo fatto anche in campagna elettorale proponendo degli eventi, dei micro eventi che hanno avuto un ottimo risultato, quindi volere sì si può, come abbiamo detto in un hashtag dei post che stiamo pubblicando. Ovviamente c'è bisogno anche di un intervento a medio termine, che cos'è che sta allontanando i cittadini dalle frazioni? Intanto l'impossibilità di investire qualcosa sulle frazioni, allora a livello urbanistico dobbiamo decidere di eliminare quei comparti che invece hanno bloccato, quindi conoscere anche la macchina amministrativa, quello che la mia squadra di governo oggi sa, a differenza della squadra che si propone in alternativa, ma non è un giudizio sulla persona, è un giudizio oggettivo. Chi non ha mai svolto ruoli amministrativi, come è successo a me dieci anni fa, ha bisogno di crescere nella macchina amministrativa, di conoscere che cos'è un piano urbanistico, di conoscere qual è un itere e soprattutto di avere intorno a sé persone che possono supportarli in questo. Interventi urbanistici, interventi anche di riqualificazione, di rigenerazione urbana, che non dovranno essere solamente sul territorio di Roseto Capoluogo, ma anche nelle frazioni. Questi sono interventi, investimenti che sia il PNRR, sia altri fondi hanno previsto. Noi ci doteremo di una banca progetti, proprio qualche giorno fa è uscito un decreto che ristanziava 120 milioni di euro da spalmare su comuni della grandezza come Roseto e degli Abruzzi, quindi ovviamente non so quanti milioni adesso nella ripartizione precisa ci saranno, ma questi sono fondi per far sì che i comuni devono essere pronti poi quando usciranno questi bandi a partecipare. Quindi noi come lo faremo? Facendo un concorso di idee, dei bandi di concorsi di idee, individuando delle zone precise, la piazza del municipio di Montepagano da riqualificare, il teatro di Cologna Paese, quindi la piazza del teatro, Santa Lucia, quindi riuscire a collegare le due piazze, la piazza vecchia e la piazza nuova, magari cercando di acquisire, riqualificando la vecchia palazzo di Mazzarosa, mi sembra che si trova proprio lì nella piazza, dove abbiamo fatto un bellissimo incontro, al buio purtroppo, agire sul discorso anche dei servizi, delle frazioni, quindi ottimizzare quelli che possono essere i servizi. Queste penso che siano delle azioni, alcune nell'immediato, alcune a lungo termine, i campetti polivalenti, riuscire a capire se il bando effettuato può essere in qualche modo migliorato o addirittura in autotutela bloccato, perché? Perché la loro funzione non economica, non rilevanza economica non deve andare ad essere cambiata da un bando che l'amministrazione di Girolamo Ginobili ha scelto di fare allo scadere, dobbiamo entrare e vedere gli atti, ma l'idea quindi di dare le frazioni, dei servizi, possibilità di socialità e una prospettiva futura, credo che sia un primo aspetto, oltre, ribadisco, ai consigli di quartiere e alle settimane dell'ascolto, quindi in uscita ma anche in entrata. Ovviamente il roseto non è solamente turismo, c'è anche la questione delle, ci sono grandi aziende che sono presenti sul territorio, come si fa a lavorare con questi grandi colossi soprattutto per farli rimanere, farli investire sul territorio? Ho percepito nei miei anni di lavoro in provincia come consigliere, vicepresidente e poi come anche con un delega ai lavori pubblici, che è lì quindi avere a che fare con 47 comuni della nostra provincia, in quel periodo c'è stata l'istituzione delle ZES e ricordo che la Val Vibrata, facendo squadra, facendo gruppo intorno, non guardando al campanile del comune, riuscirne ad ottenere, anche grazie all'allora vicepresidente della regione, diversi interventi. Questo per dire che il roseto non deve isolarsi, intanto il primo aspetto penso al discorso dell'autoporto, l'autoporto è l'autoporto di Roseto ma è l'autoporto della vallata anche del Vomano perché con un progetto che ad oggi è ancora in provincia di collegamento tra la zona dell'autoporto e la zona dell'industria di Scerna e di Pineto per esempio sarebbe un primo investimento. Sbloccare con un bando l'utilità di quell'autoporto, cosa annunciata dalla regione ormai nove mesi fa ma di cui non abbiamo traccia, anche qui questa famosa filiera, io credo che il problema non sia la regione, il problema sia l'amministrazione locale che deve andare a spingere, deve andare a sedersi a dei tavoli, deve andare a bussare con forza, il sindaco in questi casi deve mettersi la fascia e deve avere la forza e le mani libere, non vincolato da partiti o da promesse delle future elezioni, non bisogna guardare alla futura elezione, bisogna guardare all'attuale amministrazione, quindi zone industriali che hanno quindi un grande sviluppo, credo più che in un'industria pesante in questa Roseto, oggi avremmo la possibilità con la posizione strategica di aziende di logistica, quindi di smistamento, ma al tempo stesso sento di dire che le aziende locali presenti vanno messe in condizioni di avere le agevolazioni che altri comuni riescono a fare, quindi la certezza che da una richiesta ad una risposta non possono esserci tempi in memoria, ma questo lo dico anche in mente di imprenditori che vogliono investire, non si può aspettare tre anni e mezzo per una variante, di cui effettivamente c'è necessità, c'è liceità e c'è una sorta di percorso già tracciato, allora questo tempo premesso che credo nella buona fede di chi ci ha preceduto, evidentemente era dovuto alla disunità della squadra amministrativa, quindi la mia squadra con un patto serio, chiaro e deciso sarà unita fino a che i cittadini ci danno fiducia e fino a che la squadra vuole essere unita, il sindaco deve avere il coraggio, ripeto il coraggio di andare avanti sul programma senza personalismi e andando al di là di quelli che possono essere dei bisogni personali. Siamo quasi arrivati alla fine di questa intervista, un'altra problematica che riguarda il comune di Roseto è la questione dell'erosione, soprattutto nella parte di Cologna Spiaggia, lì negli anni si è cercato di intervenire, però per il momento il problema persiste. Sì, nell'ultimo consiglio comunale, straordinario appunto, abbiamo deciso anche noi dell'opposizione di permettere di convocarlo per votare all'unanimità un provvedimento di adesione, praticamente un progetto di finanziamento di 5 milioni di euro contro l'erosione delle spiagge. È un problema annoso, è un problema su cui, dobbiamo dire oggettivamente, non si è lavorati perché si è deciso di rimanere isolati, anche qui Cologna Spiaggia ma anche Roseto Sud, quindi sono due zone periferiche della nostra città che hanno avuto e che hanno lo stesso problema ma che sono state considerate anche all'interno dello stesso comune isolate. Ma io direi che dovremmo fare un discorso come sindaci di tutti i comuni delle famose sette sorelle. Noi dobbiamo sederci intorno a un tavolo, qualsiasi esso sia, e riuscire con forza ad andare in regione. Abbiamo delapidato e buttato negli anni nel mare fondi e fondi per il ripascimento morbido che sono uno spreco. Allora su questo bisogna avere il coraggio di dire a volte fermiamoci un attimo, cerchiamo di mettere da parte, investiamo. E' vero che ci sono dei capitoli di bilancio che hanno una finalità e dei capitoli che ne hanno altre, questo lo so benissimo, ma è anche vero che la politica deve avere anche il coraggio di cambiare rotta. Ecco, in questo caso credo che il cambio di rotta ci venga anche dai fondi dell'Europa, del PNRR, il cambio di rotta ci venga anche da un'epoca post-Covid che ha fatto capire che i colori politici possono anche essere annullati per dei beni comuni e su questo credo che destra, sinistra, civici, qualsiasi colore politico debbano avere il coraggio di avere delle idee chiare. 30 secondi su alleanze? Abbiamo deciso con il nostro gruppo di non avere apparentamenti, quindi non apparentamenti ufficiali e d'altronde il forte risultato elettorale ci pone anche in una condizione di rimanere in ascolto perché la chiusura significherebbe un'arroganza che non è nostra, quindi abbiamo aperto a chiunque volesse dialogare sul programma, quindi su accordi programmatici che ovviamente, lo abbiamo messo in chiaro, non abbiano ad oggetto poltrone, perché in questo caso, l'ho capito sulla mia pelle, le poltrone sono più scomode che comode, quindi chiedendo a qualcuno di aderire a un progetto, il progetto ha bisogno di tempo, come dicevo, quindi un inserimento a freddo di chiunque, di chi che sia, sarebbe comunque difficile in un progetto che ormai da 30 mesi va avanti e con i consiglieri di opposizione che si sono aggiunti negli ultimi sei mesi, comunque è vero che è un progetto nato quattro mesi fa, ma anche lì abbiamo collaborato per tempo, quindi non apparentamenti se ci dovesse essere un discorso su una parte programmatica che va a intersecarsi con altri gruppi politici, noi non avremo problemi ad ascoltare. Perché i cittadini Roseto devono scegliere Mario Nugnes come prossimo sindaco del Comune? Chiedo la fiducia dei cittadini perché guardando appunto negli occhi che sono lo specchio dell'anima di ciascuno di noi, credo che l'essere persona tra le persone, come qualcuno mi ha definito in questi mesi di campagna elettorale, sarà, è stato e sarà il mio nostro punto di forza, avere una squadra coesa costruita nel tempo, avere una competenza che può essere messa a servizio come filiera, quindi filiera delle competenze e non filiera delle conoscenze e soprattutto dedicare tempo, anima, corpo ed energie alla cura e alla bellezza di Roseto e di Abruzzi. Solo così Roseto potrà davvero rinascere. Diamo il benvenuto a William Di Marco, il candidato del centrodestra perché visto e considerato che si sono tutti uniti per la sua candidatura e vorrei iniziare nell'analizzare un po' il primo turno. Lei è stato veramente voto a voto con Ginoble, però poi lei l'ha spuntata di circa 70 voti. Sì, è stato un pomeriggio e una serata e poi anche una nottata perché poi eravate presenti pure voi fino all'ultimo voto. In realtà mi si chiedeva di rilasciare dichiarazioni che non potevo perché era così stretta la forbice che qualsiasi variazione sarebbe stata plausibile. Quindi abbiamo aspettato fino alla fine. Io credo che i cittadini abbiano premiato il centrodestra perché intanto ci siamo presentati uniti ed è stato un prerequisito che io ho richiesto. Nel momento in cui abbiamo avuto il primo incontro, i partiti strutturati del centrodestra si sono venuti a cercare. È ovvio che la prima cosa che ho detto è che se non siete uniti nemmeno ci possiamo sedere. Dopodiché ovviamente io, come ormai diverse persone sanno, mi sono presentato in modo indipendente e autonomo. Faccio parte di una, diciamo, idea liberale del mondo della vita. Nel senso che per me è fondamentale che la persona venga prima di tutto proprio non come individuo ma come persona. Quindi diciamo da quella tradizione italiana che è quella dell'umanesimo nel 400 si trasforma un po' il mondo occidentale grazie a questa centralità dell'uomo. Per me l'uomo rimane centrale. Dopo questo tipo di premessa, quindi mi sono ritrovato nelle idee di centrodestra, abbiamo fatto questa operazione e credo che i cittadini abbiano apprezzato il fatto che una parte si sia presentata unita. Dall'altra ovviamente io sapevo che c'erano quattro grossi schieramenti del centrosinistra. Tutti e quattro devo dire con ottime chance fino alla fine. Io non ho mai individuato l'anello debole in questa situazione. Perché la stessa Rosaria Cencaione aveva un suo, diciamo, substrato di voti e poi c'era l'incognita dei 5 Stelle. Il sindaco uscente, che da me ha avuto sempre la massima sì, ma anche perché abbiamo collaborato in tante iniziative come associazione, quindi prima di entrare in politica, che sono appena due mesi e mezzo, ho fatto parte per 40 anni circa dell'associazionismo rosetano e quindi abbiamo collaborato. E sapevo della sua valenza, a parte come uomo, ma anche con il partito che aveva dietro, perché il PD è un partito di riconosciuta struttura locale. Poi c'era il mostro sacro di voti, perché è stato sempre uno che ha catturato tantissimi voti, che era Tommaso Ginobili e Nunes, che era questa, diciamo, anche la rappresentanza di un mondo che si schierava, che credo che si schieri prevalentemente a sinistra, anche perché all'interno c'è azione. E oggi più che mai, dopo le elezioni, il primo turno di Roma si è schierata col PD e con i 5 Stelle, quindi anche per individuare l'area, e certamente non di centrodestra, e quindi poi noi sapevamo di dover confrontarci con questi quattro bei blocchi granitici, ma noi eravamo convinti che se ci fossero presentati uniti, oltretutto i tre classici partiti, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, a questi sono uniti Coraggio Italia, UDC, Rinascimento Sgarbi, il Popolo della Famiglia, quindi poi abbiamo aggregato veramente tutto il centrodestra e credo che i rosetani abbiano voluto premiare, anche se per pochi voti, questa politica, che è una politica degli schieramenti chiari, noi siamo chiari, noi siamo il centrodestra unito e siamo l'unico centrodestra unito. Parliamo di progetti futuri, qual è secondo lei la strategia migliore per il Comune di Roseto? Guardi, io ne dico subito, credo che le strategie siano diverse e il Comune di Roseto, purtroppo, da un lato, dispiace dirlo, ma è così, anche perché chi viene da fuori lo nota, ha troppi anni di incuria e l'incuria è data dal fatto, per esempio adesso veniamo da questa pioggia torrenziale, si allagano i sottovia, si allagano le strade ed è ovvio che alcune cose sono dovute a calamità naturali, cioè quando viene tanta pioggia in così poco tempo è difficile, non bisogna fare i fenomeni, però tantissime altre situazioni sono situazioni di incuria, cioè non sono stati mai puliti i tombini, non sono mai stati fatti delle raccolte dell'acqua in un modo, diciamo, anche progettuale, serio e quindi ecco che ci ritroviamo. Allora, il problema principale di Roseto, non degli ultimi cinque anni, ma credo che sia molto di più, è quello proprio del decoro, dell'incuria, della manutenzione. Questo è il primo passaggio, anche perché è un passaggio di tipo visivo e noi dobbiamo saper curare l'aspetto visivo da un lato, ma l'aspetto della bellezza, cioè il decoro appartiene alla vita cittadina in quanto è un innalzamento del sentire personale, etico, come posso dire, morale della persona, cioè la bellezza va innalzata anche perché noi viviamo di bellezza, non per niente ci vestiamo in un certo modo, non per niente ci confrontiamo con gli altri, non per niente amiamo l'arte, perché l'arte ci fa innalzare, è una sublimazione dello spirito, quindi se noi curiamo la bellezza non è soltanto una questione di funzionalità, è una questione di vivere meglio e io credo che tutti quanti, più o meno, insomma, abbiano avuto le esperienze di andare in queste città anche dell'Italia, del nord, dei paesini, di montagna, soprattutto all'estero, dove la bellezza, della cura del territorio è la cosa fondamentale e hai un impatto che è diverso. Quindi la questione del decoro, la questione della manutenzione, la questione di far sì che le cose possano essere funzionanti, è uno dei primi presupposti per cambiare Roseto, poi ci sono ovviamente, da questo si aggiungono altre cose. Ovviamente il quadro che lei ha appena fatto poi si rispecchia anche sul turismo, sul turista che viene a vivere Roseto, che negli anni comunque sono sempre di più, soprattutto anche visto che è considerata la questione Covid, ha fatto crescere molto di più il turismo comunque di prossimità. Esatto, il turismo di prossimità che lo stiamo riscoprendo adesso, ma noi l'avremmo dovuto già riscoprire anche prima. Adesso è stata una necessità. Noi, diciamo, veniamo da un paese che storicamente è turistico, perché ovviamente nell'Ottocento, adesso ne stavo parlando pure fuori, qui era un acquitrino, quando noi parliamo di alcune depressioni, zone depresse di Roseto, perché la costa era prevalentemente un acquitrino e tuttora si nota in alcune zone di Roseto. Poi c'è un dato storico proprio riconosciuto. Dopodiché a fine dell'Ottocento inizia a svilupparsi il turismo a Roseto, grazie anche alla stazione che non avevano gli altri paesi, Roseto e Giulianova avevano la stazione. Quindi il turismo un po' nel DNA e poi quello dell'accoglienza. È ovvio che il decoro si sposa col turismo, inevitabilmente. Prima dicevo dei riferimenti del Nord Italia o dei paesi che sono turisticamente avanzati. La prima cosa che si cura, che si salvaguarda è proprio l'aspetto della bellezza, di quell'armonia d'insieme che è necessaria. Quindi questo lancerebbe il turismo ancora di più. Poi noi abbiamo previsto tre, quattro cose senza promette. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale, questo l'ha detto. Abbiamo fatto una campagna elettorale senza promesse. Siamo andati nelle piazze e abbiamo detto vi dovete fidare di chi ha fatto fino adesso, non di chi vi dirà che farà. È una rivoluzione sotto il profilo e noi la chiamiamo evoluzione, non più rivoluzione. Un'evoluzione perché la gente la puoi riavvicinare soltanto se sei credibile, soprattutto se non dici le cose impossibili. Ma le due cose principali, anche a breve giro di posta, la faremo. C'è il famoso miglio magico, chilometro magico, quello dall'uscita all'autostrada. Non è possibile avere un degrado del genere, soprattutto per quei turisti che vengono e che non si sentono accolti. Quindi cercare di abbellire con aiuole, con fiori, le rotonde che noi abbiamo dall'autostrada arrivare a Roseto. Poi rilanceremo da subito Montepagano perché abbiamo già un progetto preparato dalla nostra associazione Cerchi Concentrici Promotor in collaborazione con l'Istituto Moretti ma anche con il Liceo Saffo che nel passato ha studiato anche come rilanciare turisticamente Montepagano. Quindi le prime due cose che faremo sicuramente, che è a costo zero relativamente, diciamo, costo minimo, è quello di appunto dare questa impronta turistica diversa. Quando si parla di turismo poi c'è il problema anche dei parcheggi perché comunque il turismo di prossimità che è cresciuto soprattutto nell'ultimo anno a causa del Covid ha portato un grande flusso di auto in città. Sì, è un problema che sicuramente hanno anche altri paesi, alcuni l'hanno saputo risolvere. Noi abbiamo la grande prospettiva futura di un parcheggio serio e prendiamo spunto da paesi che l'hanno risolto come nel nord dell'Italia ma in modo particolare Riccione. Ma questo è un progetto che sarebbe troppo articolato dirlo ma poi appartiene se vogliamo anche ai libri dei sogni. Noi non promettiamo niente, i libri dei sogni li lasciamo in disparte perché vogliamo essere molto più concreti. Quindi sappiamo che nell'immediato bisogna intervenire subito e per intervenire occorre innanzitutto ripristinare quegli spazi come quello di Via D'Annunzio e il parcheggio a nord di Roseto, cioè di Castelli, dell'area Castelli che quest'anno sono stati chiusi. È vero che in passaggio ci sono stati anche altri contenziosi, però il problema è stato sempre risolto, cioè l'amministrazione è riuscita a convincere i proprietari, perché hanno ragione, hanno situazioni che si trascinano da anni e queste situazioni praticamente non sono state mai risolte a livello urbanistico. Quindi occorre nuovamente rimettersi al tavolino, ma è certo che quelle due aree sono un polmone fondamentale per Roseto che vive 12 mesi all'anno, quella più interna e quella soprattutto estiva perché il parcheggio sta sul lungomare. Detto questo è ovvio che sono dei rimedi, dicevo prima, occorre strutturare dei parcheggi molto più ampi. Noi abbiamo intenzione di qualcosa di veramente avveneristico sul mare, ma è certo che ci sono per esempio le tre aree di risulta, che sono le aree almeno due da sfruttare immediatamente, cioè quella della fornace Catarra e soprattutto Branella. Ma al di là di questo, nell'immediato, come è stato fatto già in passato e poi il progetto è stato abbandonato, bisognerebbe creare questi bus navetta, possibilmente in modo ecologico, ma intanto crearli, cioè bus che possano portare le persone che vengono soprattutto dalla vallata del Vomano, che hanno facilità a parcheggiare nei grandi spazi del palazzetto o negli spazi molto più aperti della zona sud del lungomare, per poi arrivare al centro attraverso questi bus navetta. Stessa cosa per chi viene dal nord, perché anche lì ci sono degli spazi. Quindi l'organizzazione di questo non è che un'organizzazione impensabile o a costi proibitivi, è una cosa che si può fare, una cosa che è realmente fattibile. Io credo che anche questa amministrazione ci abbia pensato, soltanto che capisco che con i bus navetta così ridotti nel numero quest'anno per la questione del Covid forse non era conveniente, era antieconomico, però dall'anno prossimo tutto dovrebbe tornare alla normalità e questo è già un segno tangibile di un turismo che vuole cambiare, ma il turismo che vorrà cambiare realmente, lo diciamo chiaramente agli elettori rosetani, è quello che ci sarà nel 2023, perché iniziare a programmare una stagione significa programmarla un anno prima e noi tra elezioni e quant'altro prima di fine anno non si sarà mai operativi. Quindi si farà il possibile per questa prossima stagione nel 2022, ma nel 2023 le cose dovranno già essere fatte nell'idea che noi abbiamo di rivoluzionare e di creare un'evoluzione turistica per Roseto. Non c'è solamente il turismo a Roseto, ci sono anche le aziende, tante aziende, anche grandi. Ma questa è una bella osservazione, perché quando parliamo di turismo l'abbiamo fatto nelle varie piazze di Roseto, perché io ricordo ai telespettatori, qualcuno probabilmente ci guarda anche da fuori, Roseto ha una conformazione morfologica particolare, perché è un comune bassissimo, ha circa 53,3 km2, quasi il doppio, poco meno del doppio di Giulianova, tanto per renderci conto, 28 km2 di Giulianova, quindi abbiamo un comune bassissimo e all'interno del comune ci sono 10 realtà che sono dei comuni, comuni nel comune, Montepagano, Colonia Paese, Colonia Spiaggia, soprattutto Colonia Spiaggia che è molto popolosa, ma poi c'è la conurbazione che si snoda lungo la 150, Campamare, Santa Petronilla, San Giovanni, Volta al Rosso, Casale, Santa Lucia, allora noi abbiamo definito i 10 comuni nel comune, perché poi faccio osservare in modo un po' curioso che l'isola Dischi ha 46 km2, quindi molto meno, 7-8 km2 in meno e ha 6 comuni dentro l'isola, quindi per far capire quanto è anche complesso la gestione del comune. Però questi comuni che stanno in periferia devono sentirsi parte del comune, appunto, cioè sono località che appartengono a tutti, anche perché poi Montepagano era il comune originario che ha fatto creare tutto quanto. Questa vasta zona ha diverse risorse economiche, il turismo è una di quelle che ha un'importanza non solo sotto il profilo economico ma sociologico, perché la socialità si crea attraverso i contatti di persone che vengono da fuori e quindi ha una predominanza anche, diciamo, di specchietto delle allodore, cioè di farci conoscere. Dopodiché c'è la realtà economica legata all'industria, è venuto il ministro dello sviluppo, Giorgetti, è rimasto impressionato, poteva risparmiarselo questo ma non lo ha fatto, cioè in una trasmissione televisiva nazionale, quando stava al nord e ha parlato delle realtà produttive del nord, ha fatto l'esempio di Rossello degli Abruzzi, perché noi nel giro che abbiamo fatto l'abbiamo portata a tre realtà estremamente importanti, soprattutto tecnologiche, da pensare che una di queste tre realtà esporta in 160 paesi, quindi quasi in tutto il mondo. Quindi il problema di Roseto legato all'economia è un problema che vede in campo l'economia industriale, l'economia commerciale, l'economia dell'artigianato, l'economia agricola, perché noi abbiamo tante realtà di agriturismo, ma soprattutto di imprese agricole che vanno incentivate e sviluppate, poi l'economia della marineria. Quindi è così articolata e complessa che non può essere preso soltanto un settore. È importante vedere l'insieme e l'insieme parla di una Roseto che può crescere enormemente. Poi ricordo, se cresce l'economia è cosa fondamentale, crescono i posti di lavoro e quando crescono i posti di lavoro cresce e si innalza la dignità della persona, che non deve stare a chiedere nulla, non deve stare a elemosinare nulla, soprattutto ai potenti di turno, per poi creare quel chientelismo che noi non vogliamo sovvertire, vogliamo del tutto eliminare. Siamo arrivati quasi alla fine, un argomento che si discutono mai in maniera quotidiana è quello degli apparentamenti, visto che è considerato che il 17 e il 18 i cittadini rosetani torneranno al voto, lei che strada prenderà? Noi siamo orgogliosi adesso in questa campagna elettorale di una cosa, di aver messo un punto fermo agli apparentamenti. Quando siamo scesi in campo? La prima cosa che abbiamo chiesto ai partiti di centrodestra quando sono venuti a parlarci è che noi partiamo dal concetto che non faremo mai un apparentamento. Loro si sono soffermati, ma non più di cinque minuti e hanno detto su questo siamo con te al 100%. Quindi noi siamo partiti all'origine con questo tipo di atteggiamento, ma per una questione un po' utilitaristica, indubbiamente, è un po' etica. Quindi le due cose vanno messe insieme, utilitaristica nel senso di avere un'utilità per quelli che ci hanno appoggiato fino adesso, quelli che ci hanno appoggiato perché abbiamo certe idee, ma soprattutto le persone che ci hanno messo la faccia, i 64 candidati, si sentono protagonisti di questo progetto e saranno più o meno in vari settori e in vari ambiti anche coinvolti. Di colpo l'apparentamento non fa altro che svendere alcuni consiglieri, svendere post in giunta, svendere il vice sindaco, ed è una cosa che io, anche perché mi diletto a scrivere, l'ho scritto in tempi, non tospetti, tanti anni fa, che ho sempre contestato. Quindi l'apparentamento non ci appartiene. Dopodiché che significa questo? Io poi ho visto che gli altri si sono un po' adeguati perché erano partiti con l'idea di fare apparentamenti un po' tutti, poi vista questa intransigenza nostra che fino adesso ci ha premiato, si sono un po' adeguati. Dopodiché l'apparentamento noi l'abbiamo sempre fatto non con la gente, con gli elettori, io lo chiamo, lo dico con un termine che è molto più vasto e se vogliamo concettualmente molto più in profondità. Con il popolo noi facciamo l'apparentamento con le persone che adesso individuano due candidati sindaci, perché siamo rimasti in due, e devono vedere quello che ha realizzato più cose in passato, è una persona che si è impegnata in più ambiti e quella persona può essere dalla storia passata quella che può realizzare le cose per il futuro. Ecco, questa è la scelta, nemmeno tanto con gli schieramenti, perché gli schieramenti adesso sono un po' saltati. Ecco perché noi siamo trasversali, abbiamo quell'area di moderatismo, che non la chiamiamo nemmeno tale, perché esiste una classe media che va individuata e soprattutto va appoggiata, che in questo caso può ritrovare in noi tutte quelle istanze che servono per far sì che loro possano vivere in una città decorosa, una città che abbia il senso della bellezza e soprattutto della cultura. Mi raccomando, la cultura, e noi abbiamo dimostrato in 40 anni quante cose abbiamo fatto sotto il profilo culturale, è fondamentale. Di Marco, perché i cittadini di Roseto devono scegliere lei come futuro sindaco? Perché noi abbiamo un concetto che in parte dà un aspetto rivoluzionario. Le rivoluzioni, la Sole ce l'ha insegnato, sono importanti ma non sono definitive, perché la rivoluzione è qualcosa che scardina un ordine costituito e quindi la sovverta. E spesso le rivoluzioni non sono andate a buon fine perché una classe diciamo dirigente ha sostituito un'altra, o una classe sociale ha sostituito un'altra. Noi abbiamo intenzione invece di accentuare il nostro concetto di evoluzione. Noi vogliamo che Roseto torni ad essere una città come negli anni immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale o per esempio anche negli anni 30. Chi ha studiato Roseto sa quanta magnificenza c'erano in quelle situazioni, soprattutto in quelle persone che avevano un dinamismo, una capacità di evolversi straordinaria. Allora quella evoluzione deve entrare dentro di noi attraverso i concetti, come ho detto, della bellezza, del decoro, della cultura e far sì che i giovani soprattutto possano capire questo, perché da questi quattro concetti nasce il lavoro per tutti quanti. I concetti sono fondamentali per far sì che poi possano essere diramati in una società che ha un tessuto molto complesso e complicato come il nostro. Se noi porteremo a compimento queste cose vedrete che Roseto non solo vivrà meglio, ma vivrà in un'armonia che è la cosa che l'uomo cerca dal momento in cui nasce. Bene amici telespettatori avete ascoltato le parole dei due candidati, ora la palla passa nelle mani dei cittadini di Roseto degli Abruzzi che avranno il compito tramite il loro voto di eleggere il nuovo sindaco del Comune Costiero. Grazie.